Little Basket si trasforma nella valanga azzurra ed a Varese travolge l'Ungheria con il punteggio di 75-41. Successo è pass mondiale per la Cina dove la prossima estate gli atleti tricolore parteciperanno al mondiale. Coach Sacchetti se la ride sotto il suo baffone perché dopo aver conquistato la Coppa Italia con Cremona riesce anche nell'impresa di portare l'Italia a partecipare ad un mondiale che mancava ormai da 13 anni. Non sarà il miglior allenatore italiano ma Sacchetti è sicuramente un vincente. Chapeau. Sulla gara c'è poco da dire perché gli azzurri hanno dominato in lungo ed in largo chiudendo i conti del match già a fine primo tempo conclusosi sul 34-15. Il resto della gara è stato puro spettacolo e divertimento per tutti quelli che hanno partecipato all'evento. A fine partita sono iniziati i festeggiamenti ed una scritta campeggiava sul parco di Varese. Siamo tornati. A celebrare l'evento anche due volti ben noti della Sidgas Scandonea Vellino. Ariel Figlioi che ha giocato appena 5 minuti e coach Massimo Maffezoli che è parte integrante dello staff tecnico azzurro.